Aspetta, aspetta Presidente, mettono avanti. Allora, com'è andata? Siamo appena arrivati? Siamo arrivati finalmente? Siamo a Taranto ragazzi, adesso si brinda e poi la premiazione. Allora, due parole all'arrivo. Siamo contenti di aver fatto questa esperienza, faticosa. Sì, sì, va alzato. Aspetta, aspetta, aspetta. Aspetta, vai di là. Giada, tieni alzato. Aspetta, aspetta Presidente, aspetta. Ah, dai dietro, sì.